Anche il tuo lavoro è valutato in base ai risultati, quindi abbiamo fatto 13 punti in 10 partite, credo che sia un bottino più che sufficiente e di questo passo chiaramente la salvezza è un obiettivo che si può raggiungere. Ma oltre a quello sono soddisfatto per la crescita della squadra nell'ultimo periodo, soprattutto nelle ultime partite. Era stato buono anche l'impatto iniziale, però chiaramente c'erano dei problemi, c'erano delle cose che andavano sistemate, il fatto di prendere tanti gol, adesso sembra che abbiamo imboccato la strada giusta e dobbiamo continuare così. Quindi sicuramente è un bilancio positivo e sono veramente soddisfatto dell'impegno soprattutto che ci mettono i ragazzi e del rapporto che si è instaurato comunque con loro e con la società. Sì, non è facile chiaramente subentrare e non conoscere tante sfaccettature che ci sono nel calcio, perché non basta conoscere le qualità o vedere i giocatori a televisione o dalla tribuna, bisogna veramente conoscere anche il carattere, perché è vero che bisogna avere delle regole che valgono per tutti, però ci sono caratteri e caratteri e non si può essere uguali con tutte le persone, con tutti i giocatori, perché ognuno ha la sua personalità e quindi è questo credo che sia la cosa più difficile per un allenatore, cercare di sfruttare al massimo le caratteristiche e le qualità dei giocatori, non solo sotto il piano tecnico ma anche sotto l'aspetto morale e intellettuale, perché comunque ci vuole anche quello, diventa fondamentale. Dico che la testa è più importante a volte delle qualità per giocare a calcio, soprattutto in questi periodi, quindi sicuramente c'è una conoscenza migliore e credo che si vedano anche i risultati, i risultati parlano chiaro, quindi speriamo di continuare su questa strada e di non assolutamente abbassare la guardia, perché non ce lo possiamo permettere. Il tuo stesso servizio, soprattutto non intraspetta, non 0-1, è sintomatico di che cosa, di quali caratteristiche? Ma una volta... Ma vincere piace sempre, però è chiaro che nella partita di domenica, faccio un esempio, secondo me dovevamo chiuderla, come dovevamo chiuderla a Rimini, queste sono cose che sicuramente dobbiamo migliorare, perché comunque portare le partite in bilico all'ultimo minuto poi può succedere delle cose impreviste e delle cose che comunque fanno male, come la partita con l'Arzegnano in casa, quindi quando hai la possibilità devi ammazzare la partita e la devi assolutamente chiudere, perché basta un episodio per riaprirla e soprattutto per demoralizzarti, perché comunque se non avessimo vinto la partita di Gubbio io credo che l'impatto psicologico sarebbe stato veramente devastante, venivamo già da un recupero dell'Arzegnano veramente insperato da parte loro e sarebbe stata veramente un'ammazzata, invece i ragazzi sono stati bravi a tenere duro, nonostante non l'avessimo chiusa nel primo tempo quando lo dovevamo fare. Dieci giornate, mi ricordo magari come idea anche dei giocatori che stavi schierando un costante, poi ho cominciato a ruotare, per raggiungere una scienza, la riprova che questa rosa comunque è degna, o comunque che sarebbe a gennaio, ma sì, l'ho detto dall'inizio che avrei voluto vederli tutti, perché comunque un po' di esperienza ce l'ho e comunque non puoi fare solo riferimento agli allenamenti, perché a molti ci sono giocatori che magari in allenamento sembrano tanta roba, poi li vedi la domenica, magari difettano di personalità, oppure viceversa, dei giocatori che magari in allenamento si gestiscono un pochettino, poi quando si trasformano in partita, quindi chiaramente noi dobbiamo fare riferimento a quello, ma fondamentalmente perché comunque è un gruppo solido, è un gruppo che comunque si impegna, è un gruppo in cui tutti è giusto e meritano la propria chance, e io l'ho sempre detto che comunque la forza del gruppo diventa fondamentale per squadre come la nostra, assolutamente, non possiamo, certo, abbiamo dei giocatori che hanno anche i numeri, assolutamente, però non possiamo vivere solo sull'invenzione dei giocatori singoli, ma dobbiamo giocare da squadra, e per essere una squadra ci vuole il gruppo, e per essere gruppo tutti si devono sentire protagonisti e partecipi al progetto. La verità ha visto, magari ti chiedo perché magari si va verso lo sciopo, quindi magari possiamo parlare di un grande intervento, non ne va magari fare qualcosa, c'è indietro una cucina di buoni specifici? Ma guarda, ti dico la verità, non ne abbiamo assolutamente parlato ancora, sono sincero, perché comunque ci siamo focalizzati e concentrati in questo periodo, perché c'erano partite talmente importanti, e poi lo sappiamo bene, nel calcio le gerarchie o le situazioni cambiano di partita in partita, quindi sarebbe stato prematuro parlarne adesso. Credo che sicuramente sarà un argomento che affronteremo, e la società, ho visto che è predisposta, soprattutto l'obiettivo della società è quello che si vuole assolutamente, giustamente salvare, quindi se ci sarà qualcosa da fare, credo che lo farà. Sì, mi dispiace, guarda, ti dico la verità per Gemello, l'ho detto anche domenica, dopo la partita in conferenza stampa, perché comunque veniva da due ottime prestazioni, però in quel momento lì la mia testa diceva che avevo bisogno di un portiere un po' più esperto, e con un po' più di personalità, non che Gemello non ce l'abbia, però è normale che l'esperienza conta, non possiamo negarlo, e quindi non avendo una difesa che era comunque, diciamo, pronta o preparata da tanto tempo, era una difesa un po' improvvisata, credo che l'esperienza in quel frangente servisse, che alla fine è andata bene. Però Gemello non è un problema? No, no, Gemello assolutamente è un portiere di cui abbiamo stima, fiducia e ce lo vogliamo tenere ben stretto, questo è il mio pensiero, del pensiero della società, e del pensiero soprattutto del preparatore dei portieri, perché poi è giusto che faccia a lui le valutazioni, sicuramente è più esperto di me di portieri, quindi è un ragazzo di prospettiva, e sinceramente noi siamo contenti di tutti i portieri che abbiamo.